Sì, ci stiamo preparando al meglio per questa partita del 16, per i play-off, adesso dobbiamo lavorare con serenità e caricarci al meglio per affrontare questo tour, insomma tour de forze che sarà poi a partire dal 16. Sì, sapremo solo tardi l'avversario perché comunque lo sapremo dopo la partita del 12, quindi avremo pochi giorni per preparare la partita, ma arriveremo carichi cercando di fare risultato. Sì, li abbiamo già fatti, un anno siamo arrivati in finale, un anno purtroppo siamo usciti al primo turno, però abbiamo voglia di fare bene dopo la finale persa e comunque di provare a fare il nostro. Sì, ho fatto un bel gol, però purtroppo poi non è servito a nulla perché comunque abbiamo perso e siamo usciti, però almeno mi sono tolto la soddisfazione di aver fatto quel gol. Sì, sono molto contento della mia stagione e dell'obiettivo raggiunto, insomma, di essere arrivati in un'ottima posizione, però adesso dobbiamo concentrarci per queste partite e l'importante adesso è fare bene anche nei play-off. Sì, mi mancano tre esami, quindi ci siamo quasi, però adesso relax e penso solo al calcio, poi dopo, passata l'estate, rivenzerò l'università. Sì, mi mancano tre esami, quindi ci siamo arrivati in un'ottima posizione. Grazie. Grazie. Grazie.